Tre giorni di stop alla produzione alla Sevel di Atessa per le conseguenze dello sciopero delle Bizarre che è sospeso ieri pomeriggio dopo sei settimane. Lo stabilimento della Fiat che produce furgoni nella zona industriale Val di Sangro si fermerà nei tre turni domani, lunedì 2 aprile e venerdì 6 aprile. Con questi tre giorni di stop annunciati dall'ingotto saliranno a 13 le giornate di produzione saltate in Sevel dall'inizio del 2012 per cause esterne alla volontà dell'azienda tra sciopero dei tir, neve e appunto sciopero bisarche. In termini di mancata produzione i 39 turni interessati dallo stop, tre turni quotidiani per 13 giorni, significano 13.000 furgoni non prodotti. Stando alle stime dell'azienda infatti lo stabilimento di Atessa è quello che nella galassa italiana della Fiat produce più pezzi in 24 ore, circa 1.000 furgoni al giorno. Da Torino fanno sapere che non ci sono più spazi nei piazzali della Sevel per stoccare i furgoni prodotti e non caricati dalle bisarche per lo sciopero. Ieri pomeriggio Trasporto Unito ha deciso di sospendere lo sciopero dopo sei settimane, circostanza che comunque non ha modificato i piani di blocchi alla produzione della Sevel. Per smaltire tutti i furgoni accumulati servirà nel tempo, da qui la necessità di fermare la produzione per tre giorni, ha spiegato il lingotto. La Sevel si ricorda che è il più grande stabilimento d'Europa per la produzione di veicoli commerciali, impiega direttamente circa 6.200 lavoratori, oltre 10.000 con tutto l'indotto.